benvenuti a un nuovo video tutorial di astro panel x pro 2024 questo è uno dei video tutorial realizzati appositamente per i clienti di astro panel x ed è uno dei video start to finish in questo video spiegheremo come effettuare l'elaborazione di una fotografia alla via lattea utilizzando il nuovissimo astro tool di astro panel x pro 2024 una volta che avete installato il plugin in formato ccx all'interno di adobe creative cloud potete trovare astro tool o landscape tool or touch tool all'interno di plugin astro panel x pro 2024 astro adesso vi faccio vedere una panoramica generale delle nuove funzioni di astro tool x pro 2024 il nuovo plugin è composto da due schede una denominata tools e milky way e l'altra denominata star trail e deep sky in questo video spiegherò come utilizzare al meglio le funzioni tools e le funzioni milky way per questo tipo di fotografia negli altri video approfondiremo le funzioni star trail e le funzioni deep sky gli altri video arriveranno come aggiornamento da scaricare direttamente dal sito astro panel punto it questa foto che voi vedete è una stagging di 10 light frame 5 dark frame e 25 bias frame sono state fuse con fusion di astro panel x pro 2024 che sarà disponibile a breve insieme a fusion verrà reso disponibile anche il tool export primo step da fare è quello di estrudere il segnale nascosto della via lattea in modo da poter utilizzare poi all'interno del paesaggio la prima cosa che faccio all'interno del nostro workflow cioè il primo step è quello di resettare i colori dell'immagine se notiamo che all'interno della nostra immagine c'è abbassa il livello del colore verde all'interno dell'immagine e lo potete personalizzare a piacere con l'opacità quindi regoliamo l'opacità di livello fino a un 65 60 per cento questo perché perché sennò l'immagine assume una dominante violetta blu dopodiché procediamo a eliminare il gradiente luminoso che c'è all'interno della nostra foto quindi clicchiamo su false flat che serve a creare un flat artificiale seguendo due passaggi uno il primo è quello di cliccare su start è il secondo in base alla presenza di grande gradiente luminoso all'interno dell'immagine possiamo cliccare su 25 50 o 75 per cento in questo caso vado a cliccare su 50 per cento e l'immagine che era stata sfocata e sarà chiusa e quindi in sottrazione all'immagine originale viene sottratto tutto quel gradiente luminoso che si trovava all'interno della nostra foto dopodiché adesso dobbiamo andare a estrudere il segnale della via latte per fare questo io utilizzo i comandi contenuti in stretch image abbiamo under e abbiamo over insieme al dynamic il dynamic è un passaggio che viene effettuato che viene usato di solito alla fine dell'elaborazione io con under cerco di tirare fuori il segnale nascosto della via lattea quando le immagini sono sottoesposte come in questo caso guardando l'istogramma in alto a destra noto che l'immagine è leggermente sottoesposta over invece è al contrario quindi si utilizza per immagini sovraesposte quindi clicco su under e attendo che l'elaborazione grafica venga effettuata quando l'elaborazione grafica viene terminata mi apre un nuovo livello che si chiama curve cioè alla fine dell'elaborazione di under viene creato un livello curve questo livello curve mi serve a ridurre l'esposizione quindi a sistemare l'esposizione della nostra foto quindi prendiamo il pulsante di regolazione delle curve e andiamo a posizionarlo dove c'è più luminosità e abbassiamo la curva del nostro grafico quindi senza esagerare ok vediamo di regolare anche questo ok direi che ci siamo clicchiamo su ok e con pochissimi passaggi siamo riusciti a tirare fuori un poco di segnale della via latte fatto questo passiamo direttamente a gestire il flusso di lavoro all'interno della scheda milky way io di solito cerco di ridurre di filtrare le stelle per dare enfasi alla parte nebulosa della della via latte per fare questo utilizzo il comando filter il comando filter non fa altro che filtrare le stelle che ci sono all'interno dell'immagine e mette in risalto tutta la parte gassosa della via latte e si può utilizzare sia per la via lattia e sia per l'immagine nel cielo profondo ora attendiamo l'elaborazione possiamo regolare anche l'effetto di questo comando riducendo l'opacità del livello ecco va benissimo 70 per cento facciamo un prima e dopo e direi che il risultato è abbastanza soddisfacente poi potrei anche utilizzare il comando riducendo ma quando utilizzo il comando riducendo si utilizza per ridurre il diametro delle stelle quindi magari si potrebbe anche utilizzare se abbiamo un poco di stelle strisciate non è non è insomma nel nostro caso però possiamo utilizzarlo lo stesso insieme al comando filter ora in dark sky invece serve a scurire il fondo cielo io per utilizzare al meglio dark sky lo interseco con una delle maschere di luminosità nelle ombre quindi abbiamo le dark 3 e dark 4 e le dark 5 quando ballo di dark io intendo tutto il bianco che è contenuto all'interno dell'immagine queste sono tutte le ombre quindi clicco su apply e ho applicato alla maschera di luminosità nelle delle ombre numero 3 il comando dark sky 2 ed ecco la differenza prima 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 e dopo adesso dobbiamo passare a dare un poco di nitidezza alle immagini quindi a mettere il risalto la le zone scure della via lattia per fare questo utilizzo questi comandi sharpness e l'interso sempre con le maschere di luminosità delle ombre quindi clicco su busto poi clicco su dark 2 o 3 e poi faccio apply in questo modo questo è un prima potete guardare l'immagine che in questa zona scura è molto piatta intersecando la maschera di contrasto con la maschera di luminosità numero 3 nelle ombre crea una una sorta di doge barn manuale per mettere in risalto le varie zone della via lattia prima e un dopo possiamo duplicare il livello per accentuare ancora di più la zona che abbiamo fatto dopo aver messo nel risalto queste zone della via lattia possiamo lavorare sui sui colori quindi clicchiamo sul tasto sam e andiamo in image immagine regolazione correzione colore selettiva come si lavora con la correzione colore selettiva molto semplicemente noi dobbiamo dare dobbiamo cercare di estrarre i colori caldi del nucleo e se a voi piace possiamo anche raffreddare un po il cielo quindi per fare questo lavoriamo nei colori rossi e riducendo il ciano di un 70 per cento il magenta di un 20 per cento e aumentiamo i gialli di un 50 per cento anche di più anche diciamo pure un 100 per cento però dobbiamo fare in modo che non vengano toccate poi poi le stelle quindi non esageriamo e andiamo rimaniamo sul 50 per cento fatta questa modifica andiamo in gialli e riduciamo il ciano e aumentiamo i gialli da meno 100 più 100 nei verdi facciamo al contrario quindi ciano più 100 e gialli meno 100 in ciano e in blu dobbiamo gestire il colore del cielo quindi possiamo aumentare di un 30 per cento di ciano e nei blu di un 50 per cento il canale del ciano mentre per quanto riguarda il magenta dobbiamo ridurre sia ciano che magenta facciamo meno 50 meno 20 e aumentiamo il giallo nei neri vediamo se aumentiamo poco poco fino al 50 per cento in questo modo cosa abbiamo fatto abbiamo colorato in modo scretivo il nucleo della via lattea infatti prima era molto molto neutro come colore e clicchiamo su ok dopodiché andiamo sempre in immagine regolazione tonalità saturazione e diamo poco un poco poco di saturazione all'immagine ok ora possiamo escludere le stelle da questa modifica che ne abbiamo fatto quindi escludendo le stelle quindi escludendo diciamo le luci possiamo lasciare inalterate il loro colore come facciamo per escludere le stelle quindi che faccio vado a giocare o con i mezzi toni o con le ombre in questo modo la correzione colore selettiva che ho fatto e la saturazione che io ho applicato viene applicata solo alle ombre e non alle stelle o comunque le luci allora adesso cosa facciamo andiamo a lavorare sull'inquinamento luminoso quindi facciamo sam facciamo la cronazione di tutti i livelli sotto e poi clicchiamo su camera raw in camera raw andiamo nella sezione maschere gradiente lineare e e tracciamo la linea dal basso verso l'alto ok e in questo caso andiamo a lavorare con l'esposizione le luci e la tinta e la temperatura all'interno della nostra immagine scusatemi dobbiamo cercare di abbassare le luci e raffreddare questa zona in modo da tirare fuori il nucleo della galattia facciamo ok ed ecco qua ecco il prima e il dopo possiamo applicare anche un orton molto base quindi andiamo di raggio 8 e poi diamo un'opacità del 10 per cento quindi dopo aver aver applicato un poco di orton facciamo sam e andiamo a lavorare con un poco di contrasto quindi aumentiamo un po la luminosità e contrastiamo ok questo è l'elaborazione grafica della via lattea se la vostra immagine ha un po di rumore digitale o cromatico potete gestirlo con il comando noise reduction background quindi per togliere il rumore dal dal fondo cielo ollo per gestire il rumore digitale al cento per cento e luminance direi che abbiamo terminato la nostra elaborazione seguirà un video per quanto riguarda l'elaborazione degli star trail e deep sky e successivamente un altro video per gestire la doppia esposizione con la via lattea e il paesaggio grazie per la visione grazie per la visione